Gli ebrei stranieri internati liberi di stanza, in questo comune, non potranno avere contatti con la popolazione locale. Ho studiato le carte e non tutto ci è vietato. Ma ci mettono contro anche la popolazione locale? Ci provano. Scopri se questi contatti ci sono stati e trova i colpevoli. Non dovrei nemmeno stare qui a dirvelo, ma scappate. In occasione del giorno della memoria, per un nuovo domani, prossimamente, Rai 3.